Siamo con Vincenzo Casonaturale, terminato l'allenamento. Vincenzo, come ti stai trovando in questo tuo nuovo gruppo? No, onestamente ho trovato un gruppo di ragazzi con cui ho giocato insieme solo con Esposito e Allocca, però un gruppo di ragazzi davvero eccezionali. Credo che così faremo strada. La piazza è esigente, vi seguirà sempre tutto il campionato. Qual è il tuo messaggio che lancia la tifoseria? Sicuramente sono venuto qua per puntare alla Serie D, non mi nascondo dietro a nessuna armata. La piazza è quella che non merita questa categoria, spero più presto che torneremo in Serie D. La Serie D che forse hai conquistato negli anni di da Sunday Goal, tanti campionati, conosce la perfezione di questo campionato di eccellenza. Se basta frequentarlo, il tuo tesere è quello di approdare in Serie D. Sì, io spero che al più presto il Savoia raggiunga l'obiettivo che ci siamo prefissati e che questa piazza io ci sono stato nel 2007-2008. Già c'era una piazza esigente, ha fatto la Serie B e comunque in eccellenza non penso che sia la categoria che gli appartiene. Bocca al lutto. Crevo.